Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale. I fatti del friulio occidentale in primo piano in apertura alla cronaca. In circa un anno avevano spacciato dai 30 ai 40 chilogrammi di marijuana. I carabinieri di Sacile hanno così sgominato una banda di giovani che spacciava anche ai minorenni nelle province di Pordenone e Treviso. I carabinieri della compagnia di Sacile hanno sgominato una banda di giovani dedita allo spaccio di stupefacenti, soprattutto marijuana, anche a minori nel trevigiano e nel pordenonese, in particolare a Caneva e Sacile. A finire nei guai sono un operaio 25enne di Collumberto in provincia di Treviso, considerato il capo del sudalizio che è stato tratto in arresto. Un ventenne di Caneva e altri sei ragazzi tra i 18 e i vent'anni di varie località della provincia di Treviso. Tutti i ragazzi sono disoccupati, alcuni appartengono a famiglie benestanti. Le indagini sono partite nel maggio dello scorso anno, quando all'Ipsia di Sacile sono stati individuati due quindicenni con 15 grammi di marijuana, un bilancino, materiale per il confezionamento delle dosi e 300 euro in contanti e altri 5 minori, tra italiani e due stranieri, dai 16 ai 18 anni, in possesso di stupefacente per uso personale. I carabinieri della compagnia di Sacile hanno quindi messo in atto un'indagine, battezzata Terra di Confine, per individuare le fonti di approvvigionamento. L'attività è continuata anche durante l'emergenza coronavirus, che aveva reso il sodalizio più accorto e fatto salire i prezzi della marijuana tra i 10 e 15 euro al grammo, addirittura superando quello dell'eroina. Gli elementi raccolti hanno consentito ai militari di Sacile di effettuare alcune perquisizioni con l'aiuto dei colleghi di Vittorio Veneto, Conegliano, Montebelluna e dei cani antidroga. Essere colto in flagranza di reato è stato il 25enne di Colle Umberto. Nella sua abitazione sono stati trovati 5,2 kg di marijuana, occultati in confezioni sottovuoto nascoste in diverse stanze, 2 g di cocaina e materiale per il confezionamento. La cannabis ha un valore di 30.000 euro e smerciata a 7 euro al grammo avrebbe fatto guadagnare 10.000 euro. Si stima che la banda in un anno abbia venduto dai 35 e 40 kg di marijuana per un profitto mensile di 20.000 euro. Le loro posizioni sono al vaglio dell'autorità giudiziaria di Treviso. Il 25enne a capo della banda è tuttora in carcere in attesa dell'accoglimento della richiesta di patteggiamento avanzata dal suo legale. Cambiamo argomento. L'ex cotonificio Amman di Pordenone è stato venduto all'asta oggi per 1,2 milioni di euro ad acquistarlo una cordata alla testa della quale c'è un imprenditore della Val Pollicella. Cubature di intervento e destinazione d'uso saranno concordate in futuro con l'amministrazione comunale. Fumata bianca per l'ex cotonificio Amman. Il complesso è stato venduto all'asta per circa 1.200.000 euro. Questa mattina il curatore fallimentare ha comunicato al comune di Pordenone l'accettazione dell'offerta valida con deposito cauzionale da parte di una cordata a capo della quale c'è un imprenditore veneto della Val Pollicella. Ora si tratta di procedere con il perfezionamento dell'acquisto. Una storica area industriale della città sul noncello, questa, che conta 10 ettari da tempo in vendita e che ha alle spalle diverse aste, sempre andate deserte. È una notizia importantissima per la città. Abbiamo lavorato in questi anni in modo silenzioso, in modo discreto per avvicinare imprenditori privati interessati a riqualificare una parte fondamentale di Pordenone. Si è fatto avanti un gruppo veronese che avevamo appunto già incontrato. Oggi inizia una nuova fase per la città. Uno degli elementi che ha facilitato la vendita, spiega l'assessore all'urbanistica di Pordenone, Cristina Mirante, è la rivisitazione del piano regolatore prevedendo un'integrazione e un ampliamento a servizio e a corredo del consorzio universitario. Inoltre è stata prevista la possibilità di realizzare viali e canali dove, in caso di ingrossamento del vicino fiume, l'acqua potrà espandersi. Una soluzione, questa, il cui utilizzo è già stato concordato con l'autorità di Bacino. Per quanto riguarda la destinazione d'uso e la cubatura dell'intervento, queste saranno oggetto di trattativa tra i nuovi proprietari e il municipio. Significa negoziare insieme ai privati che cosa dovrà essere fatta all'interno di quell'area. Quindi conciliare quella che è naturale, legittima aspirazione dei privati ad avere una propria rendita finanziaria, una propria rendita economica, con quello che è lo sviluppo urbanistico che abbiamo in testa noi. Cosa succederà all'interno? Sicuramente c'è una parte residenziale, una parte però abbiamo controllata commerciale, quindi nessuno si aspetti città fiera, grandi ipermercati, sarà tutto estremamente misurato e anche una valorizzazione dal punto di vista dei servizi di ogni genere tipo, da quello recettivo, quello scolastico, universitario. Significa aver restituito a Pordenone un'area di sviluppo bellissima che verrà tutelata nonostante lo sviluppo. Tutti gli interventi comunque dovranno rispettare le parti architettoniche più caratteristiche dall'ex cotonificio e le aree verdi, anche lontano dal fiume, saranno mantenute e valorizzate. Restiamo in città come un fungo, a Pordenone il sovrappasso ciclopedonale sulla Ponte Banna spunterà in una notte. Domani la statale sarà chiusa dal tramonto all'alba per consentire la posa del ponte che collegherà due scuole e due quartieri. Cittadini. Domani i pordenonesi andranno a dormire e quando si sveglieranno troveranno una sorpresa. Sulla Ponte Banna, nel tratto tra Via Galilei e Via Interna, sorgerà il nuovo sovrappasso ciclopedonale che consentirà di passare da una parte all'altra della statale senza dover attendere il semaforo. Un'opera questa che sarà realizzata letteralmente dalla sera alla mattina. Domani alle 20 il traffico sulla Ponte Banna sarà interdetto fino all'alba e in quelle ore sarà installato il sovrappasso in acciaio già costruito. È un punto nevralgico perché collega non soltanto due quartieri ma anche due istituti scolastici molto grandi. Parliamo ovviamente del Grigoletti da un lato e del Flora dall'altro. Quindi il collegamento tra Torre e il quartiere Sacro Cuore in direzione della città. Domani sera verrà chiusa la strada Ponte Banna per consentire a due grandi gru di poter sollevare questo manufatto e poi lo appoggeranno sulle opere che sono state realizzate in questi mesi da parte di Friuli Venezia Giulia Strade. Nei giorni successivi la Ponte Banna sarà di nuovo chiusa per poche ore, sempre notturne, per le opere di rifinitura e per il collaudo. Ci saranno altre opere che verranno realizzate, l'illuminazione pubblica, l'asfaltatura, tutte le finiture necessarie a rendere poi utilizzabile il sovrappasso ciclopedonale. Ultima operazione che verrà fatta sempre con la chiusura della strada, il collaudo, quindi verrà caricato questo ponte con quello che è il massimo carico in modo tale da verificare che effettivamente abbia la capacità di tenuta appunto come previsto dal progetto. Durante i lavori il traffico, provenendo da Sacile, sarà deviato sulle vie Maestra Vecchia, Ferraris, Stradella e Galilei per poi tornare sulla statale. Torna al centro del dibattito l'unificazione delle fiere a livello regionale per il presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine da Pozzo e il momento di fare un ente unico con a capo Pordenone. Una fiera unica sotto il controllo di Pordenone, ma con sedi in tutta la regione. E questo è l'auspicio del presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine, Giovanni da Pozzo, per il futuro del sistema fieristico regionale. Le fiere già prima del Covid non funzionavano perché fiere col bilancio inattivo ce n'era molto poche. Post Covid, peggio che peggio. Quello che è un problema, e lo è sia per Udine ma anche per Pordenone, è sostenere dei costi che sono molto pesanti. Ci sono da più di dieci anni 9 milioni in pancia alla fiera per lavori da fare di ristrutturazione e miglioramento e siamo ancora lì. e poi parliamo della semplificazione, la situazione che viviamo in questi giorni non ci dà più la possibilità di fare quello che abbiamo fatto nel passato. Bisogna essere consapevoli e guardare realisticamente come stanno le cose. Io penso personalmente che la soluzione migliore sia avere un'unica fiera in questa regione, la fiera che più si è meritata di aggiudicarsi la sede e quindi anche la presidenza o quant'altro è quella di Pordenone, bisogna da rato quando uno fa le cose bene. Un'unica fiera regionale è basata su Pordenone però con siti che siano sparsi sul territorio. Una regione così non può permettersi di avere un sistema fieristico complesso. Voltiamo pagina. Giovanni Battista Colussi, imprenditore e innovatore di Casarsa, è stato insignito oggi della laurea honoris causa in ingegneria meccanica dall'Ateneo di Udine. Grazie alla sua creatività ha portato l'azienda di famiglia a diventare leader a livello mondiale. L'Università di Udine ha conferito oggi la laurea magistrale honoris causa in ingegneria meccanica Giovanni Battista Colussi, 70 anni di Casarsa della Delizia, inventore e imprenditore, leader a livello mondiale nel settore dei sistemi di lavaggio e sanitizzazione industriale. Il massimo titolo accademico onorifico è stato assegnato a Colussi, come recita la motivazione, quale riconoscimento al profilo professionale, alle competenze maturate, alla capacità tecnica e imprenditoriale, alla creatività e all'ingegno, alla capacità di promuovere innovazione di prodotto e di processo. L'assegnazione della laurea era stata proposta dal Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura. Quello dell'imprenditore è un mestiere strano, si impara facendolo giorno dopo giorno, ciò che fa è trasformare le intuizioni in passione incontenibile e irrefrenabile, rendendola il fulcro di una vita di lavoro. Così Colussi ha sintetizzato il senso del suo 50ennale impegno nella lezione accademica seguita alla proclamazione. Un'attività la sua che è partita dal settore alimentare per poi ampliare il raggio d'azione agli ambiti cosmetico, farmaceutico, ospedaliero, logistico e dell'automotive, una dedizione assoluta al lavoro, allo studio e alla risoluzione dei problemi progettuali e industriali, che ha portato l'azienda di famiglia, la Colussi Hermes di Casarsa, che guida dal 1983, a diventare leader globale in questi contesti. Le sue capacità progettuali, note fin dai tempi del Malignani di Udine, dove si diplomò perito industriale meccanico, si sono tradotte in diversi brevetti industriali di impianti e dispositivi di cui è inventore unico. Marco Sortino, professore di tecnologie e sistemi di lavorazione, nella Laudazio ha detto che la storia personale e professionale di quest'uomo è un esempio eccesso di imprenditore e innovatore. La cerimonia di proclamazione, svolta a porte chiuse a causa del coronavirus e trasmessa in streaming dall'Ateneo, si era aperta con gli interventi del rettore Roberto Pinton, del direttore del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura Marco Petti e di Alberto Detoni, già rettore dell'Ateneo Friulano. Passiamo alla cultura dal 19 al 22 luglio, torna la rassegna Pordenone Pensa tra gli ospiti Guerri, Picozzi, Padellaro e Crepe. Pordenone Pensa torna ad animare con i suoi confronti sull'attualità le serate cittadine. La dodicesima edizione, allestita dal circolo culturale eureka e sostenuta da comune e regione, andrà in scena dal 19 al 22 luglio nel frigo occidentale. Un'edizione che sarà estiva, sarà più breve, ma vedrà comunque grandi nomi del panorama culturale italiano come ospiti. Abbiamo unito le tre anime di Pordenone Pensa, quella del confronto, quella della scienza e quella del giallo. La manifestazione principale si terrà a Pordenone dal 19 al 22 luglio. Inizieremo con Giordano Bruno Guerri, ma i nostri ospiti saranno Paolo Crepe, Maria Giovanna Maglie, Antonio Padellaro e anche la divulgatrice scientifica Beatrice Mautino. Tutti gli incontri sono a ingresso libero, però è obbligatoria la prenotazione. Si terranno quelli di Pordenone in piazza 20 settembre. Questa rassegna verrà preceduta e si chiuderà a Roveredo in piano, perché comunque manteniamo la nostra vocazione territoriale. Al centro della manifestazione, come sempre, i pensieri incrociati degli ospiti. Il confronto, diciamo che uno dei più attesi è quello fra la Maglie e Padellaro, perché si parlerà di attualità a tutto tondo e si confronteranno, diranno la loro, sui temi più scottanti come quello dell'immigrazione, come un'analisi sull'America di Trump e anche sull'economia. Era questa la nostra ultima notizia per stasera, dopo di noi Economai FWG, condotto da Alfonso Di Leva. Domani sera all'appuntamento con il telegiornale di Pordenone si prende una pausa per lasciare spazio ai colleghi dello sport che seguiranno Spal Udinese. L'appuntamento con il telegiornale di Pordenone ritorna quindi venerdì alle 20.45. Grazie per essere stati con noi e buona serata.